se non riesci a essere disciplinato sul cibo che è alla base non riuscirai a essere disciplinato su tutto il resto cioè volete veramente capire che cos'è la disciplina la disciplina non è il che ne so fare esercizi fare tutto il cibo il cibo è il top della disciplina se tu riesci a essere disciplinato per mesi per anni su questa cosa si è arrivato peggio dei militari dei nevi sils americani quando riesci ad avere disciplina sul cibo probabilmente sei in grado di gestire qualunque altro tipo di disciplina se realmente lo vuoi ma se non riesci a gestire la fame figurati riesci a gestire altre cose e poi ricordatevi che la fame spesso e volentieri è indotta cioè la necessità di cibo è indotta dalle credenze perché si hanno delle credenze che sono totalmente errate totalmente errate ecco perché vi dico informatevi fatevi una cultura sul cibo poi ovviamente c'è di tutto di più perché poi sul cibo se volete vedervi qualcosa leggetevi The China Study per esempio leggetevi The China Study che non vi vuole vendere niente quindi non vi sto parlando di seguite quello lì che vi dice che poi vi vuole vendere i suoi prodotti oppure quell'altro che vuole vendere qualcos'altro perché ci sono chi da una parte chi dall'altra ognuno che come fine ha quello di vendervi la sua maniera di mangiare invece andate dai ricercatori guardatevi The China Study o leggetevi The China Study lo studio fatto è lo studio più lungo fatto nella nostra storia è durato 30 anni 30 anni quindi hanno... capite quando io vi dico le cose bisogna vederle a lungo termine ecco 30 anni è un lungo termine e in 30 anni hanno visto i risultati di determinate abitudini alimentari cioè The China Study è un po' le cose di cambio capirete che il latte e la caseina è tra le cose peggiori la carne è peggio ancora eccetera ma poi non è tanto soltanto quello che mangiate e come lo mangiate non ci dimentichiamo che il bambino quando nasce quando è piccino mangia quando ha fame poi arriva a un certo punto e il genitore dice eh no mo ti devi sedere a tavola con noi ma io non c'ho fame sti cazzi e lì gli viene cambiata completamente la credenza non devi mangiare più quando hai fame devi mangiare a colazione a pranzo a cena quello che ti diciamo noi e lì sei fottuto cioè lì sei fottuto poi ci metti la televisione, l'accettazione, il fatto che tu madre ti dà la mela e i bambini ci hanno le fiesta e te piano per culo allora vuoi pure tu le fiesta e lì ci metti il sistema che ti ingloba i regali, i regalini del McDonald's, le lucine, i cotion e sei finito cioè se caschi in quel sistema sei finito io sono riuscito a uscirne a 40 anni a 45 quanti anni io boh non so adesso insomma cinque mesi fa ne sono uscito ciao 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 Grazie a tutti.